Trilioni di batteri, virus e funghi vivono sopra o dentro di noi. E mantenere un buon rapporto equilibrato con loro è a nostro vantaggio. Insieme formano il microbioma intestinale, un ricco ecosistema che svolge una varietà di funzioni nel nostro corpo. I batteri nel nostro intestino possono scomporre il cibo che il corpo non può digerire, produrre importanti nutrienti, regolare il sistema immunitario e proteggere dai germi nocivi. Non abbiamo ancora il quadro preciso di quali batteri buoni abbia bisogno un intestino robusto. Ma sappiamo che è importante che un microbioma sano abbia una buona varietà di specie batteriche. Molti fattori influenzano i nostri microbiomi, incluso il nostro ambiente, i farmaci come gli antibiotici e persino se siamo stati partoriti con taglio cesareo o meno. Anche la dieta sta emergendo come uno dei principali elementi per la salute del nostro intestino, e sebbene non possiamo controllare tutti questi fattori, possiamo manipolare l'equilibrio dei nostri microbi prestando attenzione a ciò che mangiamo. La fibra di alimenti come frutta, verdura, noci, legumi e cereali integrali è il miglior carburante per i batteri intestinali. Quando i batteri digeriscono le fibre, producono acidi grassi a catena corta che nutrono l'intestino. Migliorano la funzione immunitaria e possono aiutare a prevenire l'infiammazione, che riduce il rischio di cancro. E più fibre ingerisci, più batteri che digeriscono le fibre colonizzano il tuo intestino. In un recente studio, gli scienziati hanno scambiato le normali diete ricche di fibre di un gruppo di sudafricani rurali, con le diete ricche di grassi e carne di un gruppo di afroamericani. Dopo solo due settimane di dieta occidentale, ricca di grassi e povera di fibre, il gruppo africano rurale ha mostrato un aumento dell'infiammazione del colon ed una diminuzione del butirrato. Un acido grasso a catena corta che si ritiene riduca il rischio di cancro al colon. Mentre il gruppo che ha testato una dieta ricca di fibre e povera di grassi ha avuto il risultato opposto. Allora, cosa succede ai nostri batteri intestinali quando mangiamo alimenti molto lavorati, a basso contenuto di fibre? Poca fibra significa meno carburante per i batteri intestinali, essenzialmente riducendo il loro cibo fino a quando non muoiono. Ciò si traduce in meno diversità. E batteri affamati. Infatti, alcuni possono persino iniziare a nutrirsi del rivestimento della mucosa intestinale. Sappiamo anche che alimenti specifici possono influenzare i batteri intestinali. Gli scienziati hanno scoperto che frutta, verdura, tè, caffè, vino rosso e cioccolato fondente erano correlati a una maggiore diversità batterica. Questi alimenti contengono polifenoli che sono composti antiossidanti presenti in natura. D'altra parte, gli alimenti ricchi di grassi lattiero-caseari e le bibite zuccherate sono stati correlati con una ridotta diversità. Anche il modo in cui il cibo viene preparato è importante. I cibi freschi poco trasformati, di solito, hanno più fibre e forniscono un carburante migliore. Quindi le verdure leggermente cotte al vapore, saltate o crude sono in genere più salutari dei piatti fritti. Ci sono anche modi per preparare il cibo che possono efficacemente introdurre nell'intestino batteri buoni, noti anche come probiotici. I cibi fermentati sono ricchi di utili batteri probiotici come lactobacillus e bifidobatteri. Originariamente utilizzata come metodo di conservazione degli alimenti prima dell'invenzione della refrigerazione, la fermentazione rimane una pratica tradizionale in tutto il mondo. Cibi come kimchi, crauti, tempeh e kombucha forniscono varietà e vitalità alla nostra dieta. Il kefir è un altro alimento fermentato che può introdurre batteri utili nelle nostre pance, il che non significa necessariamente che tutto il kefir sia un buon alimento. Quelli con tanto zucchero e pochi batteri sono poco utili. Si tratta di linee guida generali. Sono necessarie ulteriori ricerche prima di comprendere appieno come uno qualsiasi di questi alimenti interagisce con i nostri microbiomi. Vediamo correlazioni positive, ma l'interno del nostro intestino è un luogo difficile in cui fare osservazioni dirette. Ad esempio, non siamo certi se questi alimenti siano direttamente responsabili dei cambiamenti nella diversità microbica o se sta accadendo qualcosa di più complicato. Mentre stiamo solo iniziando a esplorare la vasta natura selvaggia all'interno dell'intestino, abbiamo già un'idea di quanto siano cruciali i nostri microbiomi per la salute dell'apparato digerente. La buona notizia è che abbiamo il potere di attivare i batteri buoni nelle nostre pance. Fai il pieno di fibre, cibi freschi e fermentati e puoi essere certo che il tuo intestino sarà sano e forte.